Bilancia. Questa domenica regala un cielo migliore per te che resti comunque un pochino turbato dal recente transito di Marte nel segno. La prima cosa che bisogna fare, lo ripeto da un po', è recuperare energia fisica. Poi forse è anche il caso di essere cauti con i soldi. Alcuni bilancia sono alle prese, con questioni di soldi riguardanti la casa, comunque questioni di carattere pratico, spese di troppo. Cercare nuovi orizzonti in amore non è difficile.